Superfici sporche, grasse, difficili da pulire a contatto con il cibo? Pulire la cucina ogni giorno è una sfida, specialmente quando si tratta di superfici delicate e a contatto con gli alimenti. E prodotti aggressivi possono lasciare residui dannosi e scatenare allergie. PuliEco è la soluzione sicura ed efficace per la pulizia di tutte le superfici. Sgrassante, biodegradabile e ipoallergenico, PuliEco pulisce in profondità senza residui dannosi. Basta spruzzare, attendere pochi istanti e risciacquare. Non lascia residui nocivi sulle superfici a contatto con il cibo. Biodegradabile e ipoallergenico, quindi sicuro per tutta la famiglia, e senza soda caustica e ammoniaca. Visita il sito per una pulizia sicura e profonda ogni giorno.